La lunga perquisizione della Guardia di Finanza nella sua abitazione a Suvereto mercoledì pomeriggio lasciava intendere che la figura di Francesco Vannucci, l'ex bancario che ha raccontato di essere stato presente all'incontro all'hotel Metropol di Mosca, al centro del caso Russiagate, sarebbe presto tornata sotto i riflettori e così è stato. A stretto giro ecco la notizia dell'iscrizione del cosiddetto terzo uomo nel registro degli indagati dalla procura di Milano, nell'inchiesta aperta per corruzione internazionale su presunti fondi russi alla Lega si ipotizza che per lui possa essere eseguito lo stesso schema usato dai pubblici ministeri per gli altri due indagati Gianluca Savoini e Gianluca Miranda. Dopo la perquisizione e la convocazione per l'interrogatorio, forse la prossima settimana Vannucci, Savoini e Miranda avrebbero preso parte alla presunta trattativa avvenuta a Mosca lo scorso ottobre su una compravendita di petrolio che avrebbe avuto lo scopo di fare arrivare i fondi alla Lega una trattativa che, come anticipato dall'Espresso, sarebbe proseguita anche dopo l'incontro all'hotel Metropol con altre due offerte, almeno fino a febbraio, a tre mesi, dalle elezioni europee stravinte dalla Lega di Salvini quale sarebbe stato esattamente il ruolo di Vannucci nella presunta trattativa non è ancora chiaro Grazie a tutti